Abbiamo parlato con questo attore di Hollywood, famosissimo, che stava valutando di investire e poi non è andato in porto. Mi ricordo che ho fatto questa chiamata, c'era il suo, il tuo team di investimenti, eravamo in due al lato nostro, quindi ho chiamato tutti, insomma, comunque seri, puntuali. Super formale. Allo scoccar dell'ora, dopo un minuto si accende, cioè si aggiunge la casellina del partecipante, la persona X, e non vedi niente, vedi solo lo sfondo di una camera apparentemente dall'albergo, perché era in trasferta a girare un film. Per ancora 30 secondi, vedi niente, poi ti vedi traslare davanti allo schermo un petto nudo con addominale scolpito. E dici, che cazzo è sta roba? Non vedi le braccia, vedi muoversi un po', poi scende una t-shirt bianca, la persona si siede, ed è lui, ovviamente, Mr. X, e vabbè, cioè, carinissimo, simpaticissimo, però mi ha fatto ridere, perché comunque, insomma, il suo team abbastanza... Lui invece è un po' stato, è arrivato a lui, nudo, mai parlato prima.